E' vietato far finta di nulla. Il PD deve aprirsi e discutere della vicenda petrolio e delle problematiche interne al partito. Non c'è un'assemblea regionale da 485 giorni. Il braccio destro dell'onorevole Dem Roberto Speranza e il segretario provinciale Antonello Molinari, nel giorno della direzione nazionale del Partito Democratico, invia una lettera al premier Renzi e lancia un appello indirizzato al presidente Pittella per una convocazione urgente dell'assemblea regionale del partito. Io chiedo ufficialmente al presidente Marcello Pittella, che è la più alta carica istituzionale del Partito Democratico, di farsi carico dell'onere di venire qui, aprire le porte di questo partito e consentire a tutti, dico tutti, di viverlo senza disagi. Siamo in una situazione di emergenza rispetto alla quale noi abbiamo il dovere di dare le risposte che i lucani si attendono e dobbiamo cominciare riaprendo le porte di questo partito. Lei all'indomani dell'inchiesta ha parlato di rottamazione, questo che cosa significa? Che ci deve essere un cambio di rotta anche per quanto riguarda l'aggiunta e il governo regionale? Ma guardi, io penso che ormai questo rinnovamento generazionale, tante volte annunciato e al quale mai è stato dato inizio, non può più attendere. Quindi non ci deve essere un cambio di rotta del governo regionale? Il presidente Pittella deve continuare a fare il presidente? Assolutamente, ci mancherebbe altro. Il presidente del PD, mi sto rivolgendo a lui, sto onerando lui del maggior ruolo anche politico di questa nostra comunità. Il punto è un altro, che nel PD non si è più discusso da tre anni. Da tre anni non facciamo più una discussione. Sono state fatte tante cose dal governo regionale e ci sono tante cose ancora da fare, tante cose probabilmente fatte male, ma non abbiamo mai fatto un punto della situazione politica all'interno degli organi a ciò deputati. Ma le questioni da discutere sono anche altre, a partire dalle amministrative e dal referendum. Quindi non si è discusso di referendum, ma non si è discusso neanche di amministrative? Assolutamente no. Siamo alle porte di una nuova tornata di amministrative e non abbiamo avuto ancora occasione di capire come muoverci, dove muoverci. Noi, ecco, nelle ultime assemblee che abbiamo fatto, abbiamo discusso anche degli esiti delle scorse amministrative. Esiti purtroppo non lusinghieri per quanto ci riguarda e in gran parte dei casi dovuti proprio a divisioni all'interno del PD. Vogliamo ripetere questa esperienza? Qual è la posizione dell'onorevole Speranza a riguardo? Non si è espresso molto dichiaratamente in questi giorni? Deve chiederlo all'onorevole Speranza.